Ragazzi belli miei buon pomeriggio, oggi questo video lo voglio dedicare a tutti voi e utilizzo la mia pagina anche se spesso parla di calcio per parlare un po' di una cosa che a me veramente affligge tantissimo ed è rivolta a tutti 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 voi e spero la condividiate il più possibile, spero condividiate questo video il più possibile, non si tratta di calcio Viviamo spesso nel mondo dei social, oggi i social sono diventati quasi più importanti della vita reale, io sono la prima, una delle prime che comunque sta molto tempo sui social o meglio quando posso, ci sono giornate intere in cui io i social non li guardo nemmeno perché devo lavorare oppure ho da vivere una vita anche io e quindi evito e poi ci sono quei pomeriggi o quelle serate invece in cui magari sono un po' più libera, in cui posso fare un bel po' di storie ma come vedete video ne faccio pochi Arriviamo al nocciolo della questione, oggi parlavo con una persona a me molto cara e dicevamo questo i ragazzi che stanno crescendo o meglio anche i bambini che stanno crescendo dicono spesso ai genitori da grande voglio fare lo youtuber, da grande voglio fare la youtuber molte bimbe che si truccano già all'età di 6 anni, di 7 anni, io vedo una cosa allucinante questa cosa molti ragazzini che approcciano da di loro solo su internet, solo tramite whatsapp, solo tramite facebook, solo tramite instagram che sta spopolando sempre di più ma la cosa peggiore è che molti adulti ragazzi fanno questo fatto qua che molti ragazzi di 20 anni e oltre, di 18 anni, di 20 anni, di 25 anni, di 30 anni, di 40 anni approcciano soltanto sui social e poi ci domandiamo il perché camminiamo con la boccettina di Xanax nella borsa o nello zainetto per quanto riguarda gli uomini ragazzi non siamo più capaci di guardarci negli occhi non siamo più capaci, andiamo in ansia quando succede questo perché non siamo più abituati a dire una cosa parlando non siamo più abituati a dire una cosa guardandoci negli occhi non siamo più abituati a dire una cosa sfiorandoci una mano un ragazzo prima corteggiava una ragazza la corteggiava dicendole ti va di uscire, ti va di prendere qualcosa al bar adesso se la vedi, la incontri, ti folgora la aggiungi su facebook, la aggiungi su instagram sono più importanti i like, sono più importanti i post nooo, nooo, ma cambiamo proprio testa ragazzi perché stiamo facendo crescere i nostri figli io non ne ho, ma stiamo facendo crescere le nuove generazioni male, tutto questo porterà a un'ansia terribile quando si tratterà di affrontare le persone dal vivo tutto questo porterà a tutti gli attacchi di panico che ci sono in giro tutti gli attacchi d'ansia, tutte le crisi che hanno questi ragazzini di oggi per quale motivo ragazzi? non voglio fare la paternale, non voglio fare la moralista ma è così perché quando non riesci più a vivere una vita reale e riesci a vivere soltanto nel social ma mi metto pure io di mezzo e vi spiego anche il perché ci sono stati dei periodi della mia vita in cui io purtroppo ho vissuto un disagio ho vissuto di attacchi di panico, ho vissuto di crisi di ansia lo dico senza vergognarmi perché non c'è niente di male il villaggio mi ha portato a non vivere più una vita reale ma a vivere solo in un mondo incantato, bellissimo, fantastico dove tutti si divertono, dove tutti sono allegri e quindi quando dovevo approcciarmi a un semplice supermercato o a una semplice spesa o andare a fare un semplice colloquio di lavoro che non fosse quello avevo delle problematiche avevo dei problemi a qualsiasi incontro io a qualsiasi incontro dovessi fare e questa è una cosa che ho superato grazie a Dio ho superato perché ho 37 anni perché sono una persona matura e perché una grande forza d'animo ragazzi è un carattere che mi permette di reagire ma c'è chi non reagisce a queste cose c'è chi non reagisce a queste cose se i ragazzi di oggi stanno vivendo questa situazione qui è una cosa che nel 2040, nel 2050 ci porterà a fare i figli pure tramite social a comprarli sui play store i figli non a farli più, non a fare l'amore come si deve fare ok? questa è una cosa a cui tenevo tantissimo perché ve lo giuro che mi tormenta nonostante io sia attivissima sui social nonostante io sia una youtuber tra virgolette ancora giovanissima ma ci sono nonostante io abbia 10.000 seguaci su facebook nonostante comunque su instagram va bene da un anno anche su youtube per essere un anno comunque va bene cioè ma la vita reale guardiamoci negli occhi raga abbracciamoci chiedete voi di 18 anni, di 20 anni chiedete a una ragazza di uscire dal vivo date valore ai rapporti non fatevi solo la semplice trompuntini puntini date valore ai sentimenti porca puttana fatelo che è una cosa meravigliosa le emozioni sono una cosa meravigliosa vivetele vivetele approfitto di questa pagina anche se parla nettamente di calcio ma io so so che mi condividerete e so che condividerete il mio pensiero e so che farete di tutto per far sì che questo finisca ragazzi ci vogliono i social si dice spesso ti voglio bene sui social è tanto inflazionato ok ma bisogna dare il valore al ti voglio bene bisogna dare il valore non puoi volere bene una persona che conosci da tre giorni sui social state attenti anche i ragazzini le ragazzine state attenti con chi parlate a chi vi affidate state a te fate attenzione genitori aprite gli occhi e insegnate ai vostri figli ad avere dei valori più profondi insegnate che non esistono solo i social insegnate voi papà a corteggiarla una donna ai vostri figli maschietti insegnate a voi mamme insegnate alle vostre figlie femmine che non è essere apprezzati non significa soltanto mettere un culo di fuori o una tetta di fuori che essere apprezzati vuol dire altro che essere apprezzati vuol dire fare un sorriso fare del bene alla gente non insultarla non offenderla sui social questo vuol dire essere anche apprezzati fratelli e sorelle nera azzurre amici di tutte le altre squadre del mondo amici in generale questo non c'è niente col calcio ma che ben venga che ogni tanto ci sia un dialogo del genere anche in una pagina dove parla di sport per il resto ricordatevi sempre che è la vostra Lupe vi vuole bene e sempre sempre e sempre forza i rapporti umani la vita reale il guardarsi negli occhi occhi negli occhi gli abbracci dal vivo i corteggiamenti dal vivo e forza tutte le cose belle della vita il sole, il mare, la luna, le stelle vivetevi lì viveteli 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 ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti